Stavo uscendo dall'asilo accompagnato per mano dalla nonna, quando, alla vista dell'auto del nonno, posteggiata sull'altro lato della strada, è sfuggito di mano alla donna ed è corso in mezzo alla via, in prossimità di un attraversamento pedonale. È così che un bambino di quasi sei anni a Fusiniano è stato investito poco dopo le 16.30 da un'auto che transitava proprio in quel momento lungo Corso Emaldi, all'imbocco del paese. L'uomo, alla guida del SUV, un italiano, si è trovato il bambino davanti alle ruote della vettura all'ultimo minuto e non è riuscito a frenare in tempo. Il bambino è così caduto lungo disteso sull'asfalto battendo la testa. Subito sono stati chiamati soccorsi arrivati sul posto insieme alla polizia municipale. Il bambino è rimasto sempre cosciente e ha risposto coerentemente alle domande del personale medico che ha comunque deciso di ricoverarlo all'ospedale di Ravenna con il codice d'urgenza. Sul luogo dell'incidente invece sono rimasti gli agenti della municipale a raccogliere la testimonianza del nonno e dell'automobilista e a procedere con i rilevi del caso.